bene ragazzi come qua sempre Jesse Orochi con un altro video gameplay di The Walking Dead sono la quarta parte di questo quarto capitolo siamo riusciti a fuggire da un gruppo di zombie che ormai ci avevano quasi circondato e abbiamo trovato poi anche questa ragazza misteriosa Molly che insomma ci ha dato a quanto pare una mano dopo una mezza discussione che avevamo avuto con lei e noi siamo qua sottoterra a questa insomma abbiamo il modo di ritrovare il nostro gruppo piano piano che c'è l'acqua qua non so che devo scivolare cattro piano dei topi morti non toccando questo l'ultima cosa che ho bisogno è una malattia di dolce 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 di Ma sono tantissimi Nasconditi subito Nasconditi subito Ok L'unica cosa che Ci tocca per il momento fare È Distrarre i zombie Vedi destra Diremo a destra la valvola Questo tuo Vediamo cosa fa Yeah ma sinistra Siamo andati allo zombie Ho tolto quel coso, vediamo cosa ci può Oh cazzo, sto parlando di zombie Prendo per caso che forse mi possa rivedere l'altra parte, non si sa mai Questa cosa mi servirà Bella Piano, piano, piano Potremmo usarlo in questa parte Senza farci sgamare Ok Proviamo a sinistra, cosa fa? No, non si può girare più a sinistra Llamo a destra Ok, prendo subito e me ne vado Così mi vengono in questa parte Ok, vediamo Ok, vediamo Ok, vediamo Meno male Ok, posso andare piano in questa parte Nooo È Chuck È Chuck È Chuck Che cazzo Non ci saranno Qualcuno ha salvato la prima parte Tu davvero di un suo bene Poerino Cazzo di merda! Penso per niente usare l'arma! Me la sono fatta! Merda! Porca puttana! Mi dispiace per quel povero Chuck! Scalarotta! Cogliolo! E adesso? Un passaggio! Un passaggio! Povero Chuck! Siamo in un bunker? Siamo in un bunker? Quanta roba? Guardate tutto questo! È sufficiente per mantenere le persone vivi per mesi! Che mai potrebbe essere qua? Un costo di un bunker? Un'un Capone! Cosa! 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 Di Crawford? Chi sono questi ca... Non ti credo, Vernon. Non ti credo di lasciare. Cosa vuoi che mi faccio? Sì? Perchare il cuore? Cosa non? È più di una mercezza che qualcuno di Crawford che ci ha mostrato. Pensi, Vernon. Cosa pensi che fanno se si fanno che ci sono qui sotto sotto i loro piedi? Cosa, sei certo. Scusate, amico. Non posso prendere il rischio. Non sono di Crawford. Ma ho visto quello che hanno fatto là. Mi ha fatto male. Non sono come loro. E non credo che sei. Credo che sei un buon uomo. Scusate, o io sguardo che ci farò. È tutto bene. È tutto bene. Vernon, cosa stai facendo? Vernon! Si tratta. Non sono qui per ti scusare. Sei davvero non di Crawford? No. Sono molto spaventati. Molto spaventati questa gente. Sì. 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 tape. Sì. 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 Tu devi aiutare con noi, per favore. Ora vediamo cosa posso fare, portate me a loro. Omid, amore, tu dovrebbe essere bene. Li ha portato un doctor. All right let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Okay. Clementine. Clementine? Dove sta veramente? Dov'è Clementine? Non l'ho vista proprio. Ok mi sa che è arrivato il momento di cercarlo. Beh ragazzi penso che per il momento mi fermo qui sì. E questa è stata la quarta parte di questo quarto capitolo di The Walking Dead. Questo capitolo ci ha dato parecchi colpi di scena. Abbiamo perso il grande Chuck. Mi non meritava una fine così purtroppo. Mi dispiace un casino. E invece in compenso abbiamo trovato questo bravo dottore. Questo signore anziano che ci sta dando una mano e adesso darà una controllata al nostro ferito Omid. E sì niente per il momento mi fermo qui ragazzi. Questo è stato The Walking Dead. Ci vediamo magari nel prossimo video. See you gamers!